Dopo due giornate secondo me è difficile fare un paragone con le altre formazioni o con le altre rose che ci sono state qua. Sicuramente una rosa è una squadra che è stata attrezzata, anche se in ritardo, per fare un buon campionato. In queste due partite comunque abbiamo dimostrato anche nella sconfitta di Vercelli di starci, di poterci giocare questo campionato come abbiamo sempre fatto. Con le nostre forze, partendo dai nostri punti di forza, quindi in paragoni secondo me è ancora prematurno di farne dopo due giornate di campionato. In primis fa piacere se altre squadre ti richiedono, ti cercano, vuol dire che comunque uno sta lavorando bene. Sicuramente è stato un motivo di orgoglio essere cercato dal Cesena e non solo dal Cesena. D'altra parte dispiaceva comunque la consapevolezza di lasciare un gruppo che in primis mi ha dato una mano quando sono arrivato qua e poi con questo gruppo si è costruito comunque in quattro anni qualcosa di importante, penso, quello sì. Al di là di tutto le sessioni di mercato per giocatori che magari possono andare via o comunque fanno parte di trattative, comunque è sempre difficile, anche perché voi o non voi inconsciamente lo riportate anche sul campo e magari anche con la consapevolezza che puoi allenarti bene, tralasci sempre qualcosa. A presto! Grazie.